Da buon big generale sono venuto a sapere che ci sono dei nuovi minerali all'interno della big vanilla giunti dalla big regina fere Quindi questa cosa qui ragazzi è molto importante perché voglio assolutamente capire come ottenere un nuovo lingotto di nederite di ferro E questa cosa qua ragazzi dobbiamo farla assolutamente in questo momento che giorno è fuori, fuori è notte piena E' vero che mi ho detto ragazzi non è più in questa stanza, ormai non ho più l'abitudine di andare in questa nuova stanza ragazzi sono disperato Vado subito a dormire perché dobbiamo andare nel neder nel video di oggi per appunto ottenere questo nuovo minerale Quindi dobbiamo andare a scavare subitissimo della nederite, abbiamo solamente tre lingotti nel video di oggi ragazzi E in più se non mi sbaglio abbiamo anche della nederite scrap qua dentro da qualche parte, l'avevo vista prima, eccoli qua Due pezzettini di nederite scrap quindi li lasciamo direttamente qua dentro Ma ragazzi benvenuti e bentornati in questo nuovo video della big vanilla Anzi io so che voi in questo momento vorreste che io vi salutassi direttamente sulla crafting table di mi piace Quindi benvenuti, se volete essere salutati anche voi in un prossimo video ragazzi Scrivete qua sotto nei commenti il hashtag minecraftita Dicendomi quale nome sarà appunto dato alla nuova spada se mai riuscirò a fare Di nederite di ferro di The Mark ragazzi Intanto saluto Lorenzo, Mario e Alex Se volete essere salutati anche voi ragazzi scrivete nei commenti il hashtag minecraftita con questo commento qua apposta Comunque, dobbiamo andare assolutamente nel nuovo neder della big vanilla ragazzi E mi serve innanzitutto ottenere della flint and seal Qua abbiamo un pezzettino di flint, da qualche parte abbiamo anche il ferro Qua abbiamo anche un pezzettino di ferro per fare appunto il nostro bellissimo acciarino Perché ci servirà un acciarino? Perché non ho voglia ragazzi di farmi dei letti Ma prendo direttamente della TNT, della dinamite Per far salternare tutte quante le caverne nel neder Perché dobbiamo assolutamente andare subito alla ricerca della nederite scrap Quindi cuoce, tutto quanto, l'uncent debris, queste cose qui Per ottenere appunto nederite Perché ne abbiamo veramente poca Perché voglio capire Innanzitutto il crafting non sappiamo assolutamente come si fa La big regina non ce lo ha comunicato Quindi questa cosa qui è anche bella e interessante Perché c'è da scoprire il crafting di questo oggettino qua Però, allora, iniziamo già a muoverci nel neder Abbiamo un po' di roba Abbiamo cibo, abbiamo tutto quanto Quindi siamo belli che pronti Io mi allontaneremo un pochino perché non so se gli altri ragazzi hanno già fatto la sfida Mi devo segnare le coordinate del portale perché se no facciamo un disastro E mi perdo nel neder Quindi me ne sono salvate Vado direttamente a questo punto molto molto lontano E mi dispiace ragazzi che non ci sia più il portale del neder con la spada Se vi vorrete ragazzi che magari ricostruiamo una specie di nuovo portale simile allo scorso Ditelo qua sotto nei commenti Che sarebbe super super carino da fare Allora, io con me comunque ho l'armatura tutta quanta Con fire protection Quindi su questo mi sento anche quasi tranquillo Se dovesse cadermi qualche colata di lava addosso Allora, scavo un attimino un po' verso il basso Perché tecnicamente la nederite si trova a un'altezza molto 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 bassa Calma un attimo perché qua noi stiamo rientrando più sotto nel neder Si trova in realtà tipo a una specie di altezza a quasi 10, 13 Uh, no, no, mi sto infilando in una lava Scusatemi qua tutto quanto chiuso Ho paura di perdermi Ok, da qua secondo me potrei iniziare magari a scavare Quindi proviamo a scendere un attimino da qua sotto Potremmo trovare già magari in questo modo il lance in debris Però il fatto di avere con noi due stacchi TNT Potrebbe unicamente che salvarci la vita Prendiamo anche un po' di gol Perché sapete che tecnicamente la nederite si fa con l'oro Però io magari ragazzi Essendo che non sappiamo come fa il crafting Potrebbe servire solamente magari del ferro Non lo so Allora, vediamo un attimino Io farei quasi quasi una specie di colonna di TNT Giusto per testare un attimino questo metodo se funziona o meno Giusto per distruggere un pochino di roba qua in giro E devo anche muovermi per scappare Perché sennò ragazzi io qua ci lascio le penne Anche perché l'armatura ha non ha Cioè ha protection Non ha protection ma ha fire protection Quindi dobbiamo muoverci Ok? Molto molto attenti Allora, vediamo quanto abbiamo distrutto Beh, un pochino abbiamo distrutto ragazzi in effetti Possiamo uscire un attimino e controllare Se già abbiamo qua in zona della Ansem Debris Ma io non vedo assolutamente nulla Diciamo che secondo me serve piazzare della TNT Ma un po' distante l'una dall'altra Perché sennò così non è un metodo molto 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 fattibile E poi qua siamo ad altezza 8 Quindi non va bene ragazzi Bisogna salire di un bel po' Mi sembrava della Ansem Debris ragazzi Invece sono uscendo dannazione Allora, io qua piazzo un bel po' di TNT Poi ho fatto anche tanti altri scavi Però io vorrei piazzarla un po' a pezzi direi In questo modo Quindi facciamo ancora altri scavi Perché più esplosioni facciamo meglio è in realtà Quindi diamoci una bella mossa Anche se potrebbe essere una scelta molto rischiosa Non lo metto in dubbio ragazzi Però sento anche rumori molto molto strani Scappiamo Ok, scappiamo ancora Ok, con molta calma Moltissima calma Ok, urca Ho risposto di morire, risposto di morire Non è vero, ce l'ho fatta Allora, abbiamo fatto un bel po' di esplosioni Come notiamo Adesso speriamo di aver trovato qualcosa di interessante qua in giro Ma non vedo niente qua Eccola qui Prima pezzettino di Ancient debris che vi troviamo nel video di oggi Beh, dopo 10 TNT ne troviamo solo uno però Dannazione Magari ce n'è altra nascosta Perché si può anche dividere in vene Ancient debris, ricordiamoci Invece ce n'è solamente un pezzettino unico Che non dobbiamo perdere Quindi droppiamo altra nederite in questo modo Altra nederra Che di aver fatto un tunnel gigantesco di TNT Ragazzi Potrebbe crashare tutto l'universo Ma fa niente Me ne vado Ragazzi Meglio che scappi il più fretta possibile Calma, calma Me ne devo andare Me ne devo andare Me ne devo andare Me ne devo andare Ho fatto un solco gigantesco di esplosioni Ragazzi, ok? Io c'ho della lava Però fidatevi Ho messo tantissimi TNT lì Mi sa che ora vedremo i frutti Quindi 50 TNT ragazzi Fatti esplodere È come possibile che dannazione Non vedo ancora pezzettini di Ancient debris? Ah, eccole la 2 Perfetto Molto, molto bene ragazzi Diciamo che è un metodo un po' troppo esagerato Però dato che mi serve subito Cercare roba che mi interessa Quindi subito l'Hans in debris Senza star qua a perdere troppo tempo per farmare Mi saranno veramente tanti, 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 tanti pezzi Allora Quanti ne abbiamo per ora? 3 Allontaniamoci di un bel po' Andiamo sempre più avanti Sempre più dritti In più ragazzi Se vedete in qualche minutaggio dell'Hans in debris da qualche parte Ditemelo che almeno la vado a raccogliere Oh, quanto ce ne è là in alto? Sono tantissimi quei pezzi Calma 4 ce ne sono là in alto Molto, molto, molto bene No, non cadermi A parte che nella lava loro non vengono distrutti Quindi molto, molto bene E i miei pedini qua hanno Federfall in uno Che brutti, mamma mia Ah, ma in alto ce ne sono altri due, vero? Mi mancava in realtà un po' ragazzi Fare questi episodi qua di farming Ditemelo anche voi qua sotto nei commenti Di tanto mi piace farli Però dovete dirmi ovviamente voi cosa ne pensate Vediamo qua cosa c'è d'altro Qua non c'è nulla Ce n'è uno lì Ok, interessante Solo uno è un po' un peccato in realtà Proseguiamo la nostra Oh, mi è venuto un infarto Proseguiamo la nostra ricerca Non so perché ne sono spaventato veramente un sacco L'abbiamo ancora rotto Proseguiamo da questo lato C'è qualcosa? No, non c'è niente di che Mi sa che non ne troviamo più ragazzi Perché qua Non so quanto siamo arrivati fino in fondo Qua No, lì c'è un piglin Dannazione Vieni qua schifoso Bravo che prendi fuoco Complimenti Qua c'è qualcos'altro Da questo lato Oh, qua ce ne sono due Ne vedo già Due Eh, qua ce ne sono tre Tanta roba Tantissima roba Ci sono caverne che sono piene zeppe E altre Ni Che cacchio è stato a darmi fuoco? Ah, perché ci sono i mostri lava forse? Boh, non lo so ragazzi Qualcosa mi ha dato fuoco Non so cosa Poi si prosegue di qua Con altri due ore in alto E finisce qua l'esplosione Che abbiamo fatto fino a poco fa Beh, direi che comunque Come ricerca ragazzi Mi è andata bene Eh, cioè non mi posso lamentare Già ho tre lingotti Ho due nel diritto e scrap In più ho 15 pezzi di questo Direi che mi sento soddisfatto Potrei già tornare verso casa Nella Big Vanilla Il portale dovrebbe essere qua Ottimo Molto molto bene Possiamo rientrare direttamente Allora Secondo me Riusciamo a ottenere Una specie Secondo me Di un 5 altri lingotti E vanno molto molto bene per noi Io più che altro l'ho fatto Perché non so il crafting Adesso dobbiamo un attimino Sbizzarrirci noi Con appunto il ferro Quindi qua No, dobbiamo mettere a cuocere Innanzitutto Quindi mettiamoli qua dentro Togliamo Perché ci sono delle carote d'oro Qua dentro ragazzi Eh, mettiamo a cuocere Dell'hansian debris In questo modo Dove sono i miei due pezzi di scrap? Io avevo No, li ho droppati per terra? No ragazzi Ditemi se lo vedete in video In che momento ho droppato Di nitrate scrap Perché sono un po' stupido Lo so, lo ammetto Però li ho droppati per terra Molto probabilmente Vabbè, intanto Andiamo a prendere Dei pezzettini di ferro Così vediamo un attimino Se riusciamo a capire Un pochino Come fare il crafting Andiamo sicuramente A giocare in qualche modo Quindi prendiamoci I nostri pezzi di ferro Qua abbiamo anche i blocchi Magari servono i blocchi Magari lingotti Magari nuggets Non lo sappiamo ragazzi Non lo so Quindi vediamo un attimino No, li ho lasciati qua dentro I due pezzi Non li ho droppati Ok, meno male Ma perché lì ne sono spawnati? Fermi un attimo No, non ditemi che spawnano Non ditemelo ragazzi Perché questo potrebbe essere Un gran problema Ne spawnano invece ragazzi E come si spawnano? Questo potrebbe essere Un bel enorme problema Questo sapete cosa vuol dire? Che qua ok abbiamo un mostrillo Ma probabilmente Potrebbero anche spawnare A questo punto Nella torre di Kendal Che facciamo ragazzi Con un mostrillo? Lo dobbiamo eliminare? O no? Perché potrebbe essere Super super rischioso Vabbè Comunque ottengo i vostri pensieri Nei commenti ragazzi Che ci tengo veramente molto Dato che mostrillo Comunque è stata una scelta Un pochino anche vostra Ma perché c'è tutta Ah sono le parcelli Dell'ender chest Qua abbiamo ottenuto 12 pezzettini Allora Con molta calma Solitamente Per ottenere il nederito Dobbiamo fare una roba del genere Giusto? O mettere qua il gold In questo modo A meno che Mi viene da pensare Che è da fare così No Ok Così magari Proviamo a mettere il ferro Quattorno No Magari il contrario Quindi mettiamo qua Un pezzettino di ferro E della nederite Qua in questo modo No Ok va bene Neanche in questo modo Prendiamo un pezzettino di nederite Mettiamolo qua attorno No Ok Neanche così Ora Dovremmo provare Facciamo una cosa Dato che possiamo andare A rubacchiare un attimino Un pezzettino di corona Dalla regina Perché lì È piena zeppa di nederite Utilizziamo un attimino Uno di questi blocchi Perché magari Si può fare con Dei pezzi di nederite Tutti quanti attorno Quindi rubacchiamo questo pezzettino Qua di corona Poi dopo lo risistemeremo Ragazzi promesso Però ci serve tantissime nederite Io l'ho completamente finita Vi giuro Facendo appunto Quella corona Della big regina Quindi rimettiamo qua Altri pezzi di nederite Forse un pezzo di lingotto Al centro qua No Qualcosa del genere No Sto pensando Magari Del ferro Così negli angoli Oh Fermi No Ditemi che si può fare così Si può fare la spada Si può fare con gli stick Ragazzi È magia È magia Possiamo ottenere La prima spada Del big generale No Credo che magari Vada messa Una spada in diamante Facciamoci una spada in diamante Al volo E vediamo se si può mettere poi Nell'upgrade gear Trasformata In una spada Di nederite di ferro No Allora C'è da capire come fare la spada Ok Abbiamo trovato il modo Di ottenere il lingotto Ma Non so come fare la spada Non lo so ragazzi Io ho pensato Non Non sapevo il crafting Ho pensato Al Alla struttura Del lingotto stesso Su come potesse essere L'immagine E ho pensato magari O metterla negli angoli O fare dei rombi Però Geniale Calma Allora in questo modo Quindi noi proviamo a fare Tanti lingotti così Una spada Si crafta in questo modo Ragazzi Per forza A meno che non servano gli stick Ma serva qualcosa Di tipo diamante No No Allora Forse magari è uno di quei crafting Stile blaze rod Abbiamo una blaze rod Ho una blaze rod Da qualche parte Qua no Qua 5 blaze rod Vediamo se di blaze rod Ragazzi Può funzionare Ci proviamo Vediamo Blaze rod Dove è il lingotto di ferro No Non capisco come fare una spada Ragazzi Così No No Ma perché è così difficile Dannazione Che potrebbe essere Allora Trasformiamo quindi questo qui Tutto quanto in nederite E fin qua ci siamo ragazzi Fin qua Siamo sicuri di questa cosa Ma ho l'invento pieno Zepp aiutatemi Aiuto Devo mettere roba via Io c'ho questa cosa qua Dei grattacapi Che mi piace veramente Un sacco ogni volta Mettiamo anche queste robe Via le blaze rod Stavo pensando In questo momento Ed è un bel difficile Perché se DeMarc pensa Vuol dire che tutti quanti Devono mettersi le mani nei capelli Non ho abbastanza oro Infatti non ho pensato a questa cosa Vabbè l'oro Eccolo qua Ne abbiamo ben 37 pezzi Quindi possiamo farne altro Così Ottimo 29 pezzi Sono ottimi E comunque vedete Sempre grazie alla crafting table De mi piace che arriviamo sopra Sempre a questi magagni Sempre queste cose belle Allora Uno Due Così riusciamo a farci Altri cilingotti Ottimo Pensavo Di non trasformare Tutto quanto In lingotti di ferro In questo modo Anche se in realtà Ci serviranno Quindi facciamoli tutti quanti 8 ne facciamo Perché 8? Perché a sto punto A livello di logica Viene da pensare Che facendo così Mettendo la spada al centro No Neanche così Dannazione L'armatura Neanche E se servisse Mettere una spada Di nederite qua dentro Sì Non ci credo Non ci credo ragazzi Era l'ultima cosa logica Da fare Oh mio dio La nuova spada OP Della Big Vanilla La spada più OP Finora Ottenuta Nella Big Vanilla Tanta roba No ragazzi Bellissimo Tanta roba Mi piace ragazzi Sono stra 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 felice Di questa spada Nuova Della Big Vanilla La spada 5 Punto No 4.0 Questa qua Tecnicamente Tanta tanta roba Beh Tantissima roba Ragazzi Io spero Che questo episodio qua Della Big Vanilla A voi Sia Piaciuto Mi invito a lasciare O mi piace un bel commento A iscrivervi al mio canale Se non è ancora di fatto E a scegliere uno Dei video qua davanti E noi ci vediamo In un prossimo video Da Mark è tutto ragazzi Ciao ciao Ciao